Il segnalatore di posizione del pod è arrivato a 3 kg pubblici verso nord, ma lì non ci sono zone adatte all'atterraggio. Beh, si farà nel modo difficile. Kronk, Zephyr, salto d'alta quota. Affermativo, Pivello, fai strada. Oh, madonna. Contraerea, contraerea. Questo mi ricorda quella volta che abbiamo fatto quel salto d'alta quota con quell'Homax e il suono in co-metallico sul pianeta dei Gragmiti. Zephyr, quando è successo? Oh, che diamine. Sta succedendo adesso, dannato idiota. Oh, madonna. Stiamo parlando di Quark. Quindi sì. Stiamo parlando di Quark, non proteggermi. So prendermi cura di me, Zephyr. Sto analizzando tutti i canali idrofidi. Se troviamo Quark, troveremo il dimensionatore. Oh, madonna. Bene, e ora... Bene, e ora... Contraerea! Aia! Oh! Ah, bravi i Zephyr e Croce! Pesce arrosto a 299 gradi! Lo assaggiamo! È una vera merda! Per il resto perché mi sono stato più walks! Ah, le ridu heritage is muchos chametons! Ma senz' colored he mentioned those 구매! No, no, no... C'era! Quindi da una volta di adesso! Quark, come se non ci permette di roda di you guys! Che cosa ha stato Vielleicht a hinter me? stupido roba da terra fate l'arba veste a sordo correnti questo faccia da pesce non finiscono mai cavolo navi da sbarco cavolo ci sono cose ammazzate il fornimento molto vale e ora va bene come facciamo navi da sbarco niente sbarco dobbiamo neutralizzare quegli avamposti cronk tira fuori quel campo di forza subito miss talwin arriva fricche piazzate al riparo grazie vai zephyr oh mio dio il mister a che oi la stazione centrale di difesa inviate ogni ciclo calone eroe dal parco porco cane vanno sul serio munizioni munizioni stavolta sono tanti aia pace di culo questa me la pagate forza pivello farò saltare i generatori esterni e tu spegni gli scudi di sicurezza oh mio dio protocollo di criptazione superato chiusura processi di sicurezza cambio di traiettoria cannone comando confermato i cannoni sono nostri eccellente cronk zephyr voi restate su quelle torrette noi entriamo navicelli in arrivo andiamo di liberarceli ragazzi ora avremo un gran bisogno di quei cannoni aspetti mista lwin cannoni pronti fra tre due uno grazie cronk grazie zephyr c'è un lavoro ragazzi restate su quei cannoni ecce te io andiamo dentro in cerca del dimensionatore hanno galvanizzato quella guardia con il raritanio cosa? madonna non va giù si bel tiro immagino che lo facessi sempre anche ai tempi di Kerwan una cosa del genere non mi piace qui è troppo tranquillo una traguardia recita attento merda prendi questo faccia da culo cavolo è duro questo qua cavolo cavolo forse il campo di forza è attivo grazie a dei generatori d'emergenza provate a trovare un passaggio io cercherò un altro ingresso ehi sto ragazzi sti elicotteri piccoli ma terribili di tutte le diozie di quark in questi anni questa spero solo che non sia troppo tardi recetto il capitano quark ha un sacco di difetti ma non credo che consegnerebbe il dimensionatore solo per salvarsi la vita sul serio clank l'hai detto? si invece lo farebbe come? che meraviglia! il principio dei croc meat insieme al figlio dei Lombax nello stesso luogo dell'ultima battaglia dei loro antenati che te ne pare del mio pianeta Lombax? sei rimasto inattivo per anni grazie alla tua gente amo le rovine un misto di squallido orrido e feng shui pello silenzio imbacilla tra non molto la tua disonestà sarà punita aspetto questo momento da anni finalmente è giunta l'ora ancora una volta i croc meat risorgono 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 Oh cavolo! Oh! Accidenti! Immagino che questi siano piccoli trafimitti Tommi! 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 Ah non siete abbastanza Andiamo a cercare altri Non siete abbastanza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.